Una sartoria solidale per cucire le relazioni alla sua terza edizione che ha visto da ottobre a giugno per due volte a settimana per un totale di oltre 100 ore 12 donne impegnate sempre più consapevolmente ad acquisire e consolidare conoscenze in ambito sartoriale guidate nel cucito e taglio dalla sarta professionista Michela Quitadamo Il progetto che non mira soltanto alla trasmissione di conoscenze in ambito sartoriale anche alla cura delle relazioni Prezioso il contributo del parroco Don Antonio Menichella che interpretando le istanze della sua comunità la coinvolge continuamente in iniziative di solidarietà e di impegno sociale Ha messo a disposizione una sala che dal Club Rotary Umberto Giordano di Foggia è stata allestita con due tavoli, quattro macchine da cucire e tutta l'attrezzatura necessaria Imparare un mestiere soprattutto nel contesto odierno di grande difficoltà può divenire un'opportunità di speranza per progettare il proprio futuro Passione e creatività gli ingredienti del progetto sociale promosso e coordinato dalla socia rotariana Maria Buono Sempre attenta a soddisfare le esigenze delle corsiste Ieri intanto è stata anche l'occasione per festeggiare il quinto anno della BiblioCEP con un pomeriggio di letture a Campi Diomedei Inaugurata il 18 giugno del 2019 la BiblioCEP ha visto crescere costantemente la propria importanza sia nella parte periferica della città sia nel centro urbano E' divenuta appunto di riferimento culturale, un luogo di aggregazione per numerosi bambini e ragazzi Nell'ultimo anno ha portato avanti numerosi progetti con le scuole, le associazioni di ragazzi con disabilità, l'arte e l'ambiente E' intanto tutto pronto per i giochi estivi con i quali la parrocchia si appresta a intrattenere i più piccoli Grazie